buonasera è la vera buonasera la cazzata non sapevo la fatta non hai cambiato la schermata non ho cambiato il nome della live infatti ok ce l'hai fatta è stato fantastico perfetto buonasera buonasera a tutte buonasera eravati il countdown sono molto lungo ma ci serviva avere tempo per chiacchierare un attimo e non andare necessariamente di fretta sostanzialmente ora io faccio come al solito il padrone di casa ringraziando wachi che ci ha seguito quattro ore fa quindi mentre eravamo offline grande di e consultore no ok che immaginavo proveniente da da qualche lido salda pressiano origine e niente noi siamo qui per parlare appunto un po di quello che vedete nel titolo di questo fumetto uscito da poco faccio faccio anche il bravo ce l'abbiamo tutti e tre dai più quanto siamo bravi tutto sei figo e anche la copertina maria il massimo che posso fare è far vedere che anche lo spillato maggio che mi ha dato dopo ti dirò un'idea che aveva avuto con questo spillato quello farci una cosa strana ma vabbè però stai attento di loro raccontare angelo stai attento perché è più fragile di quanto sembri e cosa c'è infatti ha ridotto in atomi ridotto in atomi stile ho provato anche io a fare una cosa che ha detto angelo e l'ho letteralmente ridotto in atomi finirà allo stesso modo se ritento di fare quello che ho provato la mia idea semplice e funzionale era tipo o belle queste tavole ma ho anche il brossurato quindi potrò togliere gli spilli e appendermi qualche tavola laddietro a mo di poster però devo stare attento a non sbriciolarla nel frattempo come ho fatto io perché non ho mandato non ti ho mandato foto ma è quella fine che ha fatto il mio spillato perché dopo che mi hai detto quella cosa ci ho provato è finito in me la dire questa metterà una delle due candidate a essere appesa questa è quella alla fine è peccato che non mi metterei a smontare ma il brossurato cioè sarebbero una ventina anche di quello da prendere però con lo spillato tipo ma infatti io sono stato parti ritengo particolarmente fortunato perché non mi ricordo quale giornale proprio cartaceo ho trovato un'intervista frank miller con tanto di paginone a tutta pagina di dark nighter tours der devil e quindi chiaramente prese tolta piegata per bene attaccato sul muro quindi quali tu so non lo vedete ma è pieno di ritratti di frank miller disegni bellissima hai la mano evidentemente più delicata della mia che considerando il lavoro che dovrei fare però vabbè tanto non devi operare nessuno comunque dicevamo a ray and black fumetto a tema supereroi riuscito venerdì scorso ci danno più a 9 19 quando loro lo sono andato a prendere in fumetteria mai anche prima lucca e per mai altro che un valuto dove c'era sia la copertina quella standard che quella che vedete che la variant copertina che io adoro alla follia sia proprio per come per la sua semplicità efficacia ma anche per come sono le successive e quindi ho detto a ora capisco il senso l'idea che un'altra però che la segue l'evoluzione con tutti i vari radiant è una cosa molto simpatica per te le fa proprio adorare per il fatto che le potresti anche mettere in fila in libreria hanno un tema alle spalle al di là del voler mostrare essere bravi a fare le copertine per quanto tra le altre cose le copertine che sono inserite poi alla fine del volume sono tutte quante una discreta figata c'è fondamentalmente fra america e canada ci si sono sbizzarriti non veramente se si parecchio o mille mila variante forse quella che ho preferito di più in assoluto e ola 1 variant di herrera è veramente bella oppure ce n'era un'altra beh quelle tipo in stile marvel anni 70 certo è sempre la sua sporca figura come si può dire ma se mamma che però ce ne sono magari qualcuna veramente carina tipo quella doppia per la specie di splash a mo di copertina si la splash questa che è sempre di costa che c'è da dire che tra le altre cose è un autore che trovo assolutamente versatile io fondamentalmente lo sto conoscendo adesso con radian black e come prima cosa sono andato sul vostro sito visto che tra le altre cose avete la sezione autori che è veramente comoda per andare a vedere un po' è comoda si no è veramente veramente easy da usare e ho ritrovato per l'appunto costa sulla serie del we don't verse con fa assolutamente e ha uno stile comunque differente cioè quindi è versatile è una mano è un'ottima mano la sua questa cosa mi lascia veramente stupito io non l'avevo mai conosciuto per adesso in o almeno penso in nessuna pubblicazione è bella copertina pure quella è un po rettina futura in realtà eh sì di anni ottanta come composizione stargate quasi visto che ne abbiamo parlato in questi giorni sì 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 proprio per come sono montati personale per come è composta l'immagine comunque la nostra scelta di parlarvi di questo metto insomma al di là del semplice consiglio perché avremmo potuto metterlo insieme ai toni di mischioni che facciamo era un po per fare un discorso un po più ampio visti appunto il collegamento ideologico che tra invincible che magari ci conoscerà più per la serie animata e appunto radian black al di là della semplice frase no di kirkman che dice questo è il mio erede ti passo il testimone per ora almeno perché io non conosco altro di questo universo ho letto solo il rossurato e voglio il secondo tipo adesso ma va bene ci sono proprio dei collegamenti quasi tematici o comunque di approccio tra le due opere quindi poter essere un modo anche per espandere un po il discorso e parlare un po di come questi supereroi oggigiorno si contaminano cambiano si modificano cioè quali sono gli approcci appunto più nuovi al tema al di là delle pubblicazioni classiche che continuano pur con le loro difficoltà insomma si sa che si sa che voglio dire in generale quel tipo di fumetto almeno in america con le vendite negli ultimi anni è un po è un po così almeno parlo delle due grandi grandi case marvel e se sono mi pare ufficialmente in perdita in termini numerici allo stato attuale che ricordi non sono in non sono in guadagno c'è stanno stanno questo è chiaro che il mercato giapponese del manga va fortissimo ovunque italia giappone america vuoi per la semplicità del anzi vuoi per l'immensa proposta di opere perché di fatto per quanto puoi allargare i personaggi di marvel e di si rimangono comunque x centinaia ma se ti butti su un mercato dei manga trovi migliaia e migliaia di titoli autoconclusivi nel senso che ok vol meta alchemy sono 18 volumi della perfetta edizio ma sono 18 cioè più la riuscita molto a concluso ce l'hai una volta che la serie akira che se lo qua sono sei volumi cioè bella bellissima enorme ha fatto la storia ma sono sei né di più né di meno hai fatto al contrario ti stai seguendo che ne so venom come sto facendo io con i cartonati della marvel ti fai la run di case che ti dura otto cartonati con tecnicamente un nono di extreme carnage poi per l'appunto direct panini e hai il carne il venom nuovo con autore nuovo quindi sia lo stesso personaggio ma autore differente idea diversa e all'interno delle stesse run si ha anche una questione di disegni differenti e magari anche di cosceneggiatori diverse che in realtà tra le altre cose anche in radian black accade ma questa cosa integrata molto bene funziona molto molto simone bene considerando il capitolo di questo lavoro rossurato appunto c'è quello che è visivamente diverso ha anche un senso di essere visivamente diverso per dire che racconta è poi un secondo le pagine le faccio vedere al pubblico mentre voi parlate così faccio vedere le differenze diciamo che per rispondere un po alla domanda non per come per cominciare per cui di fatto la risposta sarebbe enorme per cominciare a rispondere un po alla domanda di prima ciò che colpisce di più leggendo radian black ma anche leggendo invincible ma anche che un po si ritrova verrà che bella si trova anche nel mondo dei manga penso banalmente a altrimenti mente a kaiju number eight è il la quotidianità e l'inesperienza con cui viene affrontata la vicenda cioè daredevil ok perché sono qua dietro la schiena o tutto leader devil qualità la schiena cioè daredevi nel numero uno rimane cieco nel numero a metà nel numero uno è già un supereroe di cima porca bohman si è appena rimasto ceco come possibile batman sai miliardi nel numero uno ha assoluto un supereroe radian black che per spiegare banalmente la vicenda è un ragazzo un trentenne quindi è già un po più su con l'età rispetto ai canoni attuali allo standard attuale del supereroe del protagonista di manga e fumetti è un trentenne diciamo con debiti fallito senza lavoro vive a casa con i genitori botta di fortuna trova questa sorta di mini universo mini buco nero non si capisce ancora bene cos'è fluttuante lo tocca e diventa radiant black questa è la e la sinossi diffusa quindi zero spoiler ecco e di fatto però lui non sa come si fa a essere un supereroe non sa come si fanno a controllare i poteri non non sa ecco non sta se vuole essere un supereroe non sa nei momenti in cui si troverà di fronte a questa sorta di divinità cosmica che non ancora non si capisce bene cos'è non sa come comunicare con lei nei momenti in cui riesce a comunicare non sa cosa rispondere perché appunto non sa se vuole essere un supereroe e cosa vuole fare con quei poteri quindi tutta questa semplicità ingenuità ma anche zona grigia morale perché un conto è poi superpoteri bene vada salvare il mondo alla superman un conto è oggi per poteri cosa faccio e qui ci ricolleghiamo poi a una recente produzione salda press che è distorted di salvatore vivenza e gabrile falzoni uscita a settembre in cui appunto questi ragazzi scoprono davvero di superpoteri e non solo si sentono immarginati in difficoltà disadattati distorti appunto difformi ma addirittura li usano per fare delle rapine per fare dei casini perché appunto c'è questa sorta di zona grigia morale che è molto più veritiere molto più reale rispetto alla golden age americana alla silver age americana e quindi questo è sicuramente l'approccio è l'approccio proprio alla invincible perché è stato uno dei prodotti che ha già dalla dal suo primissimo numero ha subito quell'approccio lì solamente che la differenza fondamentale volendo sta anche un po in questo c'è invincible partivano da un liceale che pure lui si ritrova con dei poteri non li trova per caso li ha sempre avuti ma li sveglia al momento però l'incipit è quello cioè lui è fallito quando arriva all'apice del suo fallimento o al punto più basso della sua carriera così come mark spara il la spazzatura in orbita è una bellissima il protagonista di radian black trova buco nero e lo tocca come penso farebbero molti di noi in cui lui tocca questa sorta di mini buco nero che poi è il logo della copertina se praticamente imbatte tra le altre cose come stavi parlando delle rapine più discorrendo una delle pagine che ad esempio ho preferito in maniera molto banale all'interno del volume è questa quella in cui senza spoiler per l'appunto c'è una sequenza molto stretta in cui lui trova i soldi ci ragiona e poi tristemente vabbè facciamo la cosa giusta che per l'appunto non è una cosa molto molto alla invincible molto anni 2000 molto ricostruzione della figura supereroistica che è umana la figura di un personaggio che per l'appunto è pieno di debiti a problemi quei poteri tecnicamente non li voleva perché per quanto è toccato un buco nero non è che si aspettasse di ottenere dei poteri in quella situazione quindi obiettivamente puoi risolvere tutti quanti problemi in un attimo ma sei consapevole che stai facendo una cosa sbagliata quindi la dimensione umana va a superare quella supereroistica tant'è che è molto apprezzabile anche a mio avviso come abbiano deciso sì rendere i radian black e eventualmente gli altri personaggi magari con superpoteri senza stare a dire troppo sì super ma non esagerati per l'appunto qui non abbiamo dei superman sono comunque dei personaggi dove se ti casca un palazzo addosso ti fai male eh sì anzi molto male come si vede nel nel fumetto sì fra l'altro questo primo volume mi ha fatto esplodere il cervello va bene e questa è una cosa veramente dubbio ti ha ricordato gurella gun e per questo che ti esploso il cervello sì un po sì perché ho fatto ah solamente che lì cioè se tu guardi gurella gun quando sei un po più scafato lo vedi arrivare capito tu non mi convinci qui invece fai oh sta andando tutto bene ok tu hai dei dubbi tu hai sì se uno scrittore fallito si ai poteri e non voglio diventare un supereroe è l'amico che ti fa ma devi diventarlo perché ai poteri hai una responsabilità verso il mondo papara papà e poi ti arriva i ginsetti dagli schiaffoni nominando pure la can ammetto che stavo cercando di non fare spoiler prima ma fatto come mezza cazzata perché con pure la can è abbastanza chiaro che cosa possa andare a succedere però ecco anche lì in realtà c'è qualcosa di differente tra le altre cose in questo caso francesco mi può venire in aiuto perché lì sa già cosa accade dopo il primo volume ciao a cura il nostro capo redattore si esatto mi scordo sempre che il suo nick è quello comunque dicevo fondamentalmente francesco può venirmi in aiuto senza eventualmente fare spoiler ma nel secondo chiaro me l'amico di natan ha un'evoluzione molto particolare molto umana che è ancora in maniera quasi cruda cattiva fra molte parentesi uteri in termini disgustoso ma forse esagerato molto più umana di natal stesso che aveva comunque se dubbi aveva nessuno assolutamente assolutamente diciamo che questa cosa dell'evoluzione dei personaggi l'abbiamo vista anche in invincible quanti personaggi evolvono tiene il rapporto tra i personaggi stessi penso fondamentalmente alla tome e rex e robot stessi tra sia anche nei personaggi stessi appunto penso sempre a rex ecco senza senza fare senza fare spoiler e questo viene esaltato ancora di più in in radiant black quello che dico sempre parlando e che si nota molto bene come invisible sia un prodotto di banalmente di vent'anni fa e che in cui kirkman non ha esordito con l'invisible però era un po uno dei suoi primissimi progetti grossi enormi e quindi si stava pian piano prendendo le misure quindi ci ha messo un po a carburare un po ad arrivare al suo massimo splendore al suo apice radian black è un prodotto estremamente moderno strumento attuale costruito col canoni di bellezza e stupore che abbiamo oggi e quindi fin dalle primissime pagine fino al primissimo volume subito esplode splash page nei punti giusti colpi di scena nei punti giusti per c'è per certi vero si da vola stico è vero scolastico fatto bene un po un po a tavolo sommese tavolino con righe righello e hanno fatto un prodotto perfetto da questo punto di vista e quindi tutti i colpi di scena cliffhanger l'evoluzione dei personaggi che ci stavi tu appunto all'amico di natan nello specifico ma anche nato stesso che ha una super evoluzione nel suo nel suo essere un personaggio principale ecco questo è molto molto importante altra cosa super bella a cui da questo punto di vista è come ogni personaggio sia caratterizzato a 360 gradi prendiamo ad esempio appunto non radiant black ma radiant red in questo caso radiant red che sembra dico sembra perché ormai adesso non vuole fare spoiler però ecco sembra un personaggio estremamente cattivo violento aggressivo ma basta semplicemente farlo interagire per un po e soprattutto raccontare il suo flashback che ecco che ai nostri occhi non è gli occhi di natan e di la dan black ai nostri occhi di lettori è un personaggio completamente diverso e che ci sembra di conoscerlo da un sacco di tempo e questo è super bello anche peraltro diceva che per me la la modernità si vede anche nel ritmo perché il punto c'è il punto è questo negli anni 90 potevi ancora permetterti di fare una storia appunto come invincible che si all'inizio di spara qualche colpo però poi carbura con i suoi tempi no poi vabbè dopo dopo che parte parte poi diventano qualcosa di 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 immenso penso intorno al sesto omnibus è perché io ho in mente più che altri capitoli ma più o meno credo sia intorno al sesto omnibus che secondo me raggiunge un po l'apice senza nominare gli eventi però non lo sono perché non mi ricordo da quale a quale numero vada diciamo che il sesto brossurato intendevi sì perché appunto contando contando gli omnibus il bell'apice dell'omnibus 3 all'omnibus 6 ossia nella parte centrale della storia pensando a una divisione in nove cioè è tutto qua cioè invisible parte e poi quassù non cala ma non cala mai perché appunto è tantissima roba nel numero 3 nel terzo omnibus appunto abbiamo il super scontro tra invisible e conquest che è quella pagina tutta rossa piena di botte sangue testate spettacolare nel punto nell'omnibus 5 abbiamo dinosauri che fa diventare las vegas una lastra di ghiaccio cioè nell'omnibus 6 appunto ci sono anche lì i personaggi evolvono in maniera radicale e le relazioni tra i personaggi poi si evolveranno come vedremo nel settimo e poi nell'ottavo volume fondamentalmente c'è da dire anche il setup di radiant black tecnicamente in maniera simile ad invincible lo potrebbe aiutare a raggiungere anche delle dinamiche simili perché una cosa di questo primo volume è che fondamentalmente in sé costa creano comunque un cast piccolo il cast di ryan black nei suoi personaggi principali di base se vogliamo inserire anche il padre di natan sono quattro se aggiungiamo quindi anche radian red altrimenti sono tre nata nel suo amico è il cattivo il cattivo finale finale cioè al cattivo fondamentalmente è una storia sotto questo in queste dimensioni molto cittadina tant'è che ci sarebbe anche da aggiungere è molto simpatico anche lì scolasticamente come loro avendo fatto un setup cittadino almeno all'inizio creino delle situazioni impreviste come può avvenire sostanzialmente in qualsiasi storia ambientata all'interno di una piccola città all'interno la ruota bucata mi ha fatto morire di risato sto andando esattamente stavo cercando quella tavola questa mia assista qui da qualche parte ma eccola e ho aperto a caso e lo praticamente il dialogo anche lì è veramente divertente nell'essere tra parentesi stupido ma comunque realistico perché hai per l'appunto un supereroe che si spaccia tale su twitter tu magari manco ci credi lo chiami questo arriva e ti rompe il cric ti salvo la giornata e ti rompe il cric le cose che tu se ci pensi freddamente dice oddio che cosa stupida ma in realtà così divertente quando lo leggi e anche poi divertente come risolve la situazione che mi ha fatto ma è divertente perché è verosimile cioè esattamente quello è un po come è l'amichevole radian black i quartieri ecco la spider man esattamente tornando riprendendo il filo cioè negli anni 90 appunto potevi fare una storia che carburava in maniera più lenta invece questo qua parte sparatissimo siccome a livello moderno ci sta che avendo molta più produzione molte più storie con internet accesso a molte più cose si vogliano storie che siano in generale più brevi tant'è che pure manga stanno andando in quella direzione stranamente più brevi con un ritmo più sostenuto e che vadano più o meno subito al punto e radian black non è che perde tempo cioè il primo capito numero che il classico primo numero da fumetto dei supereroi con c'era un protagonista poco classico e poi però si va cioè bam 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 fino al 5 sono quattro numeri che vanno velocissimi e poi il sesto ma poi il fa un'altra cosa che però serve anche anche quella il sesto poi con un'altra cosa tra le altre cose che arriveranno gli shorts anche sui fumetti quindi no spero metto il messaggio in sovrimpressione perché sennò lo leggiamo noi ma grazie per il solo tra l'altro minux l'ho visto adesso grazie mille e oddio ridendo e scherzando e questa è una battuta però esulando da radian black parlando piuttosto dell'industria in generale alla fine dei conti se prendiamo i manga quello che diceva angelo è realistico le major tipo shonen jump stanno andando ad accorciare i fumetti e non puntano più sull'avere il one piece che ti dura 30 anni o il naruto che ti dura 20 cioè se un fumetto gli dura 7 8 anni come sta accadendo con me l'accademia già è grasso che cola loro adesso puntano più da avere serie stile di mousslayer allo stesso modo stanno puntando su serie più brevi per dire oggi stavamo parlando di taisan five che ha scritto il peccato originale di tacopi su jump plus due volumi sostanzialmente però francesco immagino te ne sarei anche a livello americano stanno andando anche molto con volumi autoconclusivi o con storie più brevi di questo nuovo certo 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 ma ma questo perché è quello che vuole il pubblico quello del pubblico chiede famosi incontro tra domande offerta penso che io ormai quest'anno credo di aver fatto senza credo le fate tutte cioè le chiere risalda presto le fate tutte in qualsiasi sera se andati mi avete mi avete incontrato e le domande del pubblico bene o male comincia a conoscerle a riconoscerle ricordatele e banalmente in tantissimi chiedono ma avete volumi autoconclusivi o serie brevi perché questo cerca la gente cioè si sta avere l'invincible da 25 volumi brossurati il the walking dead da 32 brossurati però poi di fatto ti vende l'invincible 9 il the walking dead da 9 anche questo non la raccolta poi soprattutto se c'è un buon rapporto qualità prezzo come appunto le edizioni raccolte di salva e però appunto volumi come mar del falcon volumi come extremi di dene warren johnson serie brevi come crossover di monica che sarà in in tre in tre volumi quindi io ne faccio anche un discorso purtroppo economico no cioè nel momento inizia qualcosa se sa che quel qualcosa durerà venti cartonati che ci pensa venti volte perché dice aspetta devo fare quella spesa venti volte mentre se il volume autoconclusivo è un volume che compri se non ti piace lo puoi anche regalare all'amico se ti piace come prima parlavi di mar del falcon che qua penso che tutti e tre ci ha distrutto dentro lo compi lo leggi e fai minchia lo compierei due volte anche le rivoluzioni al senso del fumetto e l'hai fatto assolutamente e in questo senso secondo me poi si può incastrare anche radiant black nell'ottica in cui se ho capito bene come funziona a un certo punto costruisce diciamo in verticale con il mass inverse piuttosto che andare in eterno con una sola serie esattamente l'idea quella l'idea di radiant black che adesso si svilupperà pian piano perché appunto in america è un anno circa che sta uscendo radiant black e pian piano stanno cominciando ad arrivare i vari spin off del mass inverse idea è quella che ci sia una serie principale che appunto è radiant black di cui abbiamo qua il primo volume appena uscito e il secondo lo abbiamo già annunciato per febbraio esatto eccolo lì e che ci siano x numero indefinito di spin off secondari e comprimari che vanno di fatto a raccontarti parti alterne parti altre della vicenda ecco senza fare troppo spoiler sì che c'è da dire comunque che effettivamente per l'appunto essendoci avendo le informazioni no perché comunque ci si può si possono leggere determinate cose di base funzionano anche proprio perché sono spin off nel senso più puro e genuino del termine fondamentalmente radiant red è il primo in ordine temporale che potrebbe uscire e ve lo dirò già adesso pubblico aria red è bellissimo nel momento in cui anche con la prima è da prendere mi faccio da capo di vedere perché con due numeri e mezzo quel personaggio mi ha conquistato faccio da capo di vedere questo è lo stile uno dei motivi per cui tra l'altro prima stavo parlando della differenza di autori perché di base questo brossurato a sei capitoli i primi cinque sono per l'appunto di higgins e costa per andare a stringere perché in realtà ci sono anche degli aiuti ai colori in alcuni capitoli anche la sceneggiatura però il sesto capitolo in realtà è stato scritto da cerish shen che poi l'autrice che ha lavorato a rani e red cosa che fondamentalmente con questo massive verse è diventata immediatamente la norma del momento in cui si andava a dover introdurre il supereroe di turno cosa ha ciao ti ho visto fare ciao angelo ha detto tipo pensavo mi sta facendo sei necessario stare zitto qualcosa del genere si hanno introdotto questi autori in questo modo molto furbo molto buono molto coerente e questi spin off funzionano proprio perché a mio avviso uno spin off non deve elevare nulla all'opera principale anche proprio per il discorso non semplicemente monetario quanto in realtà proprio narrativo se io lettore sono costretto a dover andare a prendere degli spin off per comprendere un personaggio probabilmente chi lo stava scrivendo lo ha scritto male o comunque si è immaginato le cose in maniera diversa radian red partendo soltanto da lei o lui dipende cosa c'è dietro il casco in realtà abbiamo già fatto vedere che è una donna però vabbè partendo da radian red lei funziona finisci questo brossurato hai capito il personaggio hai capito come è stato costruito hai capito il dilemma che lo porta a fare quello che sta facendo e funziona la lo spin off di rani red funziona se poi ti sei innamorato del personaggio puoi leggere qualche cosa di suo e ma assolutamente però questo vale anche per gli altri tra l'altro per l'appunto non mi voglio sbilanciare io aspetto come il pane il lo spin off di radian pink quello è incredibile quello è incredibilmente moderno cioè fondamentalmente ne abbiamo visto abbiamo stiamo elogiando il modo in cui ryan blank riesce a essere ancora più moderno rispetto a invincible e c'è da dire che era una necessità arrivati nel 2022 per essere moderni radian pink riesce ad esserlo in un modo che da un lato può effettivamente stuccare perché mi rendo conto che io stesso a 27 anni nonostante sia qui a parlare con voi su twitch ho visto delle dinamiche che vanno fatto quasi sentire vecchio che è stupido da dire a 27 anni ma siamo in una generazione dove veramente fra un anno e l'altro cambia l'ira di dio ma proprio per questo riesce a essere estremamente fresco estremamente un point e avvarrà la pena leggerlo varrà veramente tanto la pena leggerlo però per l'appunto tornando su radian black vai angelo ti lascio parlare no no è niente hai parlato da mezzo tanto che mi ha fatto perdere il punto da cui ero fanno usato io riprendo la voce bevendo acqua no a belire il punto sempre del del ritmo di come di come fare le cose e del provicendo della costruzione che fa in generale che poi anche qui è curioso no c'è c'è però anche tanta voglia da parte del pubblico spesso di avere questi diventi infanzi tipo esce un prodotto singolo autoconclusivo sia fumetto sia film sia quello che volete sia serie tv breve no alla gente piace e si ha questa voglia di vederne sempre qualcosa in più di vedere il suo mondo narrativo espanso eccetera eccetera è quello che poi sta portando secondo me anche un po tutta quell'ondata di anche perché è molto più facile giocare con l'emotività della gente se il brand è già conosciuto piuttosto che creare un brand da zero quindi per quello che sono 40 anni che si vocifera di un ritorno al futuro 4 sono vent'anni che si vocifera di un nuovo un sequel di baffi la massa vampiri o è stato fatto una tecnologia sequel di guerra stellare perché è più facile ma come usciranno avatar 23 come uscito blade runner 2049 che nel suo essere un film bellissimo fa quel giochino lì uscito è così anche un giorno 5 si va per quello dopo il 4 per me si poteva anche evitare ma anche dopo il frigorifero antiatomico se voglia di tutto però appunto in questo modo credo che riesca a soddisfare le due esigenze cioè l'esigenza di avere una storia che abbia un ritmo moderno che vada dritto al punto eccetera ma anche l'esigenza di avere l'universo espanso che può piacere a tantissima gente quindi un mare di storie ambientate tutte nello stesso mondo che poi uno può comprare leggere prendere a secondo del gusto insomma o dell'interesse verso il singolo argomento specialmente se poi non vanno a distruggere la narrazione principale ecco se sei del book of boba fett sei sbagliato diciamo se sei uno spin off se sei un rob one esattamente in questo caso bene o male si sono assicurati allora nel fare la chiamiamola ikman nata ok perché quando penso a questi universi a me viene in mente veramente una persona che da un lato si ama da un lato si odia perché creato tutti questi universi a delle volte molla lì come un dio cattivo molla l'universo appena creato però se la sono pensata bene perché il crossover supermassive di base è un crossover che avviene perché per motivi che non si stanno a spiegare però avviene ma di base gli universi sono separati fra di loro quindi gli spin off di radian black quelli si sono effettivamente spin off che avvengono nell'universo di radian black ma poi i vari altri spin off di cui per l'appunto stavamo anche parlando in pre live quindi rog san sono in universi altri fanno comunque parte del progetto di image di dalle image comics di questo progetto nato fondamentalmente da higgins e costa che tra le altre cose vorrei dire che nel loro essere molto giovani nel loro aver lavorato su tante cose qui veramente di vedo due autori con una fame di voler diventare grandi con quest'opera apro e chiudo la parentesi perché di base ecco prendendo l'esempio di kirkman kirkman non è nato con invincible era già grande quando l'ho fatto quindi sotto un certo punto di vista per lui invincible è stata una conferma la conferma di poter fare un fumetto di genere comunque interessante di poter riconfermarsi come un grandissimo autore mentre qui higgins e costa stanno letteralmente divorando le pagine per devono dimostrare di essere grandi e questa cosa mi fa impazzire sia umanamente perché vedere degli autori che si comportano in questa maniera è meraviglioso sia perché mi dà ulteriore lucia per il progetto perché sotto questo punto di vista mi viene molto difficile pensare che la possono buttare in cacciara ed essendo arrivata avendo letto anche l'ultimo capitolo recentemente che tipo settimana scorsa la fiducia sta sempre a livelli altissimi con loro stavo dicendo all'inizio però facciamo comunque il concetto è rimasto c'è appunto questa questa idea di costruire l'universo ma poi di avere anche una strada principale da dire chiaramente l'idea di salda press è quella di pubblicare tutto non pubblicheremo come stiamo dicendo qui lo riprodisco perché è sempre utile non pubblicheremo solo la serie principale star in black con queste copertine come diciamo prima saranno componibili tutti uguali ecco seguiranno una certa struttura narrativa anche le copertine ma andremo ad avventurarci anche appunto nei meandri di questo massive verso così chiamato e quindi pubblicheremo tutti gli spin off dicevamo che a seguire del secondo volume di radio black in uscita appunto a febbraio 23 come annunciata lucca dal radio black volume 2 dicevo comincerà ufficialmente il massive verso quindi tra radio black volume 2 e radio black volume 3 in mezzo ci saranno degli spin off quindi cominciare cominceremo a scoprire sempre di più conoscere sempre di più cosa tutto quello che fa parte di questo macro universo che è la cosa è super super interessante e per far capire sempre di più che che la del black intanto è uno l'erede spirituale designato di invisible per tantissimi motivi e due che appunto è un universo che si compone e quindi vogliamo andare incontro ai lettori di salda perché conoscono notare che la costa di copertina è esattamente uguale a quella degli spillati di bis dei dei cartonati dei brossulati di invisible non ho notato questa cosa no perché come ripeto io a ok che si è bianco di colore questo giallo è un black questo giallo nero è invisible in mano tutto l'universo di invisible adesso qui io in mano o non ho invisible ma ho di un universo appunto primo che mi è capitato tutto l'universo di invisible è tutto con questo gioco cromatico tra bianco e fascia colorata dove ogni ogni volume ha un colore diverso però anche da lontano è indicativo tu lo capisci e radian black appunto nasce con questa bicromia bianca fascia colorata per richiamare appunto l'idea di universo espanso condiviso e l'idea di io sono il secondo l'unico tipo la seconda venuta di cristo in terra da quelle cose però sì cioè ha davvero tante attinenze con con invisible vuoi anche adesso mi viene in mente il tutta la tematica familiare no se come come altro personaggio del padre mi è piaciuto tantissimo nel suo perché lì era facile ricadere nello stereotipo creare il padre assente il padre cattivo il padre padre boomer che dice tu voglio scrivere per vivere ma vai a lavorare quello stereotipo lì no quando invece è un padre anche lì un po molto più moderno pur c'è è anziano ma moderno nell'approccio nel dire va bene figlio tu vuoi vivere scrivendo le tue storie però c'è visto che nessuno ti sta pagando per farlo nel frattempo lavora e ma guadagno degli spiccioli guadagno degli piccoli esattivi è un approccio che è a tremendamente attaccato alla realtà specialmente si teniamo conto che alla fine nata potrebbe essere il parallelo anche di un qualsiasi fumettista in erba è lo scrittore e ci sono pure due pagine dove c'è l'incipit della sua storia non me l'aspettava ecco questa cosa mi ha veramente lasciato basito però è un utilizzo consapevole dei muri di testo quindi muri di essenzio che letteralmente il principito della sua nuovo romanzo o racconto che sia però è bella questa idea perché attaccata alla realtà questo fatto del se vuoi fare questo mestiere finché non diventi grande di età ma grande conosciuto dovrei comunque accompagnarlo ad un altro lavoro perché altrimenti non potrei viverci e per quanto triste sia come detto che sia scrittore di romanzi che sia fumettista in erba disegnatore in erba ma vale questo principio tu hai bisogno di tempo per produrre la tua arte e per fare pratica ma al contempo nessuno ti paga per farlo e quindi devi trovare un altro modo per vivere e da qui c'è il discorso dei debiti e c'è a dire quello è anche molto 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 narrazione americana cioè sotto questo punto di vista anche lì a livello di modernità radian black ha dei momenti non direi campanilisti perché in realtà non sono di elogio di quello della cultura americana ma comunque di riconoscimento di quello che sta accadendo in questi anni mi viene in mente la battuta lo scambio di battute fra nata nel suo amico con i due poliziotti dove per l'appunto l'amico di nata è molto molto personaggio modello polizia che aveva abuso sui civili con tanto di battuta sul è facile dire queste cose a telecamera spenta che effettivamente una cosa dove lì per lì per me è stata normale leggerla immagino anche per voi però mettendoci nei panni magari di un lettore che che ne so magari non ha la nostra età anche il ragazzo di 16 anni che non sta dietro i dg magari legge quei dialoghi e non gli torna la scintilla non gli torna in mente non gli si accende la lampadina perché sono cose che noi qui in italia non abbiamo quindi sotto questo punto di vista anche lì si nota tanto come mastica in questo caso higgins ha voluto masticare quello che è tutta quanta l'america del dio di oggigiorno condensa particolare senza e senza voglio dire ricadere nello stereotipo del protagonista che insegue il sogno americano che è così nemmeno esistito non è sempre stata una di quelle cose mamma mia già coi fumetti so che è terribile a volte quindi immaginavo i romanti e quindi senza inseguire un altro stereotipo che è quello del sogno americano fama soldi successo che spesso si riallaccia a alcune storie di supereroi nel passato ci si aggrappavano ci portavano di personaggi in quella direzione radion deck no anzi dagli indizi che dall'entità cosmica mi preoccupano un paio di cose diciamo che oggigiorno con per alzame cofice a francesco con la cultura dell'inter diffusa lo streaming legale sempre più diffuso appunto tutti le piattaforme di streaming da disney a netflix ad amazon a hb o nauti voce sono milioni se già prima quando su bannamenti sera media sette e basta viveva un po di cultura americana riflessa da film e serie tv ora ancora di più quindi è per quello che riusciamo a capire magari non al 100 per cento ma al 90 per cento la battuta sulle telecamere spente sui poliziotti che pestano i diritti le persone i diritti civili manamento mi viene in mente serie tv che ho visto recentemente anzi che ho finito di vedere recentemente brooklyn 99 99 che è la scrub sta ambientata nel riservo di polizia bellissima e lì più di una puntata affrontano queste tematiche tematiche di strada la tematica del razzismo del razzismo della polizia o verso la polizia è molto però ecco non sono cose che succedono magari anche da noi e nel senso penso banalmente a episodi come carlo giuliano federico altrovandi ecco penso a episodi politici attuali però in america veramente è più vissuta pensiamo al ragazzo nero ucciso così no che sul collo cioè banalmente per l'appunto c'è una cosa che potrebbe sembrare scontata ma comunque non lo è perché poi alla fine dei conti questi sono raffinati polarizzanti e anche la battuta può creare proprio perché per l'appunto se la consapevolezza di twitter di internet è una battuta può creare una cascata quasi incontrollabile per qualsiasi autore poi decida di mostrare qualcosa all'interno di un capitolo per quanto tra le altre cose se da un lato c'è una grande consapevolezza di quello che è il mondo del 2022 da un lato hanno notato anche una specie di anacronismo nell'amico di natan che tecnicamente sembra lavorare in quella che è una videoteca una videoteca del 2022 è quanto di più anacronistico possa esistere ma contestualmente anche lì rientra molto in quella che è la nostra cultura perché alla fine dei conti l'amico di natan è un hipster è una specie di libidi di hipster fondamentalmente lui ha letteralmente dei dialoghi che di per sé possono se possono sembrare inutili essendo lui all'inizio un personaggio secondario che non si capisce se dovrebbe tornare più volte se verrà lasciato se vuole se vuole essere poco più di una macchietta o un comprimario effettivo è esattamente quindi tutti i dialoghi ad esempio che fa sui film come fruirne il modo in cui parla ad esempio il cliente abituale che viene mostrato ogni volta fino a le battute un po maleducate con vabbè alla mancanza di gusto non c'è non c'è non c'è rimedio io ho sentito una una specie di flusso di empatia costante e angelo perché sentivo come quando capita che che escono quei discorsi e parlo eccetera a volte sono io quello che nella mia mente dice no vabbè ma questo non lo dici nella mente tu lo dici chiaramente lo scrivi anche cioè il cliente lì probabilmente ti avrebbe chiesto di vedere un film di nolan e tu avresti risposto allo stesso identico modo dell'amico di natal sostanzialmente ma allora si stava voleva farsi la maratona di di sodemer voglio dire già solo che mi vai citare una cosa simile faccio tanto di cappello agli autori tipo ah bene bene maratona che autori che tra le altre cose anche lì tornando per quanto riguarda la chiamiamola fame di rivals eventualmente hanno una storia alle spalle nel caso di higgins che ti fa anche capire determinate cose all'interno del fumetto higgins ha lavorato ad esempio i power rangers è effettivamente i design alcune idee è presente all'interno di radian black sembrano tanto esatto sembrano tanto prese da dai power rangers e dai super sentai giapponesi ma la stessa trasformazione cioè con la tavola che si si scompone no e hai la sequenzialità che gira attorno al soggetto principale con la tuta che man mano di cresce addosso fa molto power rangers un po un po esatto tra power rangers cavaliere lo zodiaco sailor moon l'immaginario è quello cioè andiamo dai power rangers al tokusatsu alla camera rider è davvero è davvero insieme col costume dei power rangers che si trasforma in sailor moon cioè è un mix di di culture di influenze di serie di narrazioni che però poi finisce per creare un prodotto che come si può dire è più della somma dei singoli prodotti si interessa da me guarda le tavole questa è proprio semplificativa personaggio che piglia il corpo con la mano e intorno nelle vignette con lui che si trasforma più che altro la cosa interessante è che non c'è una paura da parte degli autori di mettere in mostra queste influenze anche perché da capo sono consapevoli quindi sanno perfettamente che il lettore magari non dico il primo di primo pelo ma quello che ha già letto qualche cosa in più o che con un accesso a internet va a vedere che higgins ha lavorato sui power rangers tutto per dire fondamentalmente si renderebbero conto di queste derivazioni quindi loro le mettono in primo piano le trasformano in qualche cosa anche di utile alla narrazione e le modificano al loro modo questa cosa ripeto per me è molto 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 coraggiosa perché sarebbe molto facile per loro cercare di nascondere in un certo senso queste sì buonasera ringraziato anche prima più che altro c'è a parte la cosa dei colori che ovviamente è la cosa più power ranger rosa che di venire che ci gioca proprio quando l'amico di nathan mannaggia che non ricordo mai no mi deve decidere il nome da supereroe di radian black ci sono due giochi carini di uno è sul quaderno di appunti che c'è scritto mai mighty morfine e poi tipo è barrato e c'è scritto no ci fanno causa tipo una roba simile non mi ricordo la la precisa però sembra molto un ci fanno causa plagio una roba simile è il secondo gioco molto carino e quando diceva non sarebbe meglio black radiant ecco esatto non sarebbe meglio black radia darkness sembra tipo il logo di una band metal è scritto in quel modo c'è infatti già preso dice si sembra una roba alla scuola una roba simile ma proprio che c'è la vignetta dove dice tipo ci fanno causa non lo so perché mi ricordavo questo ricordo mikey morfin canzato con scritto querela il secondo gioco che diceva non sarebbe meglio black radiant lui dice sì ma che sei tipo nel nella silver age della marvel ma che vanno a rompere le valle meglio radian black suona meglio quindi è proprio un gioco consapevole con tutte le influenze che il prodotto a e questo è bellissimo perché non cerca di nasconderle facendole poi a volte vedere ancora di più ma te le mette tutte in mostra dice guarda da qui parto vediamo dove arrivo diciamo che è bello perché il l'autore di fumetti si abbassa se basta tra virgolette chiaramente si abbassa al ruolo di dai e fra leggo ciao diego gratissimo si abbassa al ruolo di lettore collezionista quindi si mette sullo stesso piano dei suoi lettori e fanno e fa l'amicone cioè dice che io sono uno di voi sono come voi non sono un autore non è che essendo autore mi metto sul piano diverso ed è una piramide una verticalità no ma siamo tutti uguali è quello che fa donny case in crossover no divenendo parte della sua storia e mostrando di saperne a pacchi è quello che fa in casa salda press stefano conte the sparker con il suo volt giu quei volumi mannaggia però sì qui dentro se tutto l'amore per il fumetto per il collezionismo si vede che stefano conte ha passato l'infanzia la giovinezza in fumetteria a parlare di fumetti perché si manda anche lui non a dire non si fa problemi a nascondere che il suo stile è sì italiano ma in realtà poi si mischia questa cosa un po all'arale un po assolutamente un po la Toriyama si 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 mischia un po di tutto alla fine ed è bello perché perché comunque a volte può succedere che nel nascondere delle influenze degli autori finiscono per non posso dire qualificare dei risulti false si risulti poco convincenti o manieristi o manieristi nel senso il ricalcare basta invece così è una rielaborazione completa di tutto ciò ma per dire anche a livello di ripropa scusa francesco vai no è molto veloce in realtà c'è sostanzialmente sempre per quanto riguarda il rielaborare quello che è già visto tecnicamente se si pensa alla banale al banale cambiamento di colori stile power rangers quindi stessa tuta ma colori differenti già soltanto con radian red tanto per dirne una si può notare come comunque costa higgins avessero l'idea del sì facciamole tutte stile power rangers ma radian red le facciamo un costume che ogni due per tre non glielo cambiamo tant'è che se si va a vedere sostanzialmente in quasi ogni pagina il costume di radian red cambia per via dei suoi poteri contestualmente a livello di colore proprio come colorista costa qui la butta giù pesante con attirizza colori per creare questo effetto neon tra l'altro studiati a mio avviso perfettamente che usa veramente veramente bene e già in questo primo volume si possono notare delle cose nel secondo volume ci sono delle tavole che con questo uso dei colori dei vari radiant fa delle cose meravigliose forse un minimo epilettiche per qualcuno ma grazie a dio non sono immagini però è quanto però sono statiche quindi non forse a non vorrei di fulminarsi davvero che dovrebbero mettere un warning questo tipo di prodotto che potrebbe venire bene sia animato stile invincible quindi più americano sia che anime potrebbe venire bene anche i modi addirittura una cosa mischiata o mischiata non lo so soltanto con fra ci ritroviamo a parlare di sti prodotti di animazione mischiati qualche meno abbia parlato di guaccio per dire è un pomeriggio di sicurezza io volevo arrivare a mettere insieme più stili sono veramente la gente ci prova ci sono studi che ci provano e quando ci riescono tirano fuori delle bombe incredibili quindi sarebbe una grande simile chiaramente è gamble in questo caso ma bello caspita mi hanno mi hanno tipo affiancato a un personaggio di gamble hanno detto che sono io e a nice mi hanno detto che sono io proprio caratterialmente quindi mi hanno obbligato a mettermi la sua propic per mesi perché mi hanno detto no sei tu devi metterti questa foto profilo va bene lo fa non è che è stato un obbligo è che ci somigli cioè la tua faccia è quella per buona parte della giornata no comunque volevo arrivare a parlare di una cosa visto che fra mi ha dato il lago con i colori visto che poi sono ci sgridano non parliamo mai dei disegni delle cose e che anche vero volevo arrivare a parlare un pochino dello stile in generale a tutto tondo perché abbiamo parlato di influenze ma mentre stava proprio parlare dello stile volevo partire da un concetto in particolare che è l'utilizzo perché è un fumetto chiaramente disegnato in digitale questo secondo me si vede in diversi aspetti si vede anche nelle vignette piccole dove ci sono i campi lunghi di che sono pieni di roba quindi questo è tipico di digitale anche proprio come definizione no nella tavola fatta a mano nella vignetta piccola col campo largo non riesce a mettere tutto in maniera precisa però quello che mi è piaciuto un sacco è l'utilizzo degli effetti che il digitale ti consente di usare per esempio partendo dalla tuta di radian black con il glow attorno alla figura che è una cosa che in digitale viene meglio a tutti gli effetti visivi degli attacchi le sfere che ce l'ho aperta a caso ce l'ho qui davanti le sfere di potere di radian black che danno il negativo che fanno i colori in negativo nella zona che circondano e anche quando si scontrano con radian red che fanno tutti i vari effettone i fuori registrano tutti mischia nei registri di colore cioè spettacolare è qui quando fa la quando fare questa specie di sparata di potere sempre la in black con i tempi abbiamo preso la stessa pagina vabbè insomma che tra le cose al di là anche dell'utilizzo del coro in questo caso anche per dire a livello proprio registrico c'è per esempio in questa pagina ti fa una roba che spaziale fa questo cambio si ecco anche quella stupenda ne abbiamo parlato recentemente ti ricordi con guano che noi speravamo che il pugno portasse invece te lo fa per l'appunto costa in que che ti parte dai ai panel con il palazzo e poi li rompe con con radiant che precipita ha colpito dal dal pugnazzo di radiant red quindi mi è piaciuto un sacco proprio l'uso consapevole del digitale che ormai non è più una novità ma è una realtà da un decennio non lo so da un sacco di tempo e quindi però ha basato consapevolmente che non è come diciamo sempre che fra fare gli swishy swashy con gli effetti di paint ma è avere un'idea visiva una codifica visiva di un qualcosa che ha come significato il glow sul contorno di radiant non c'è sempre c'è sempre c'è in determinati motivi ha un significato visivo i fulmini ne hanno un altro le venature sul radiant red che sono che sono brillanti diciamo hanno un altro significato ancora quindi quest'uso consapevole del sì infatti quando il mese scorso ho fatto il primissimo post in cui ho detto che con l'acquisto di invincible vi regalavamo lo spillato omaggio l'album spillato omaggio ho messo come immagine su instagram la cover di dell'album che avevi tu o angelo in mano e dietro tutto il fulmine rosa non so se lo ricordate cercando di dargli l'effetto più glow più fluo visibile lì infatti mi sono messo so perso un'ora quella mattinata però ho cercato di fare il miglio che potevo fare con quella mia conoscenza di photoshop che non è quella di di marcelo costa ecco però alla fine sono abbastanza soddisfatto però perché volevo proprio rendere quell'idea di di quanta bellezza anche grafica anche estetica anche del design ci sia nel fumetto cioè io qui davanti a me ho proprio una tavola che fa capire quanto non serva inventare cose nuove quanto utilizzare ciò che già di bello esiste penso appunto a questa tavola qui non so quanto si capisca appunto da schermo praticamente l'inseguimento aereo fra radian red e radian black esattamente varie vignette varie vinte storte con il dettaglio del pugno e l'inseguimento qua con le strisce fluo cioè questo lo faceva da dragon ball banalmente in ogni combattimento di dragon ball ci sono loro che si inseguono nel cielo dandosi pugni ogni volta che si danno il pugno fa la scarica di freddo c'è però cioè devo scegliere se guardare l'ennesimo batte goku vegeta o valent black versus red questo mi sembra fatto estremamente meglio da tanti punti di vista cioè quello del colore e dell'estetica soprattutto c'è rispetto a inventare un nuovo modo di fare botte perché a botte si fa così dagli anni 70 80 cioè l'inizio nel manga si fondono sul fare botte però è come fai vedere che fa e volte cambia tutto in america il modo di fare a botte insomma l'ha tirato fuori un po kirby e poi da lì sì ci sono state delle evoluzioni sono state delle commissioni con con l'oriente che ha avuto un'altra storia e codifica dell'azione però difficilmente nel 2022 inventi un nuovo modo di rappresentare le botte in un fumetto cioè banalmente molto complesso esatto cioè che poi quello che fanno tantissimi motori il punto è sempre come questo mezzo lo sfrutti quindi la stessione di tagliare quello rosso tanto per dire questa vi prendo questa vignetta no questo è super classica che sostanzialmente è la vignetta in cui lui decide di cercare informazioni quindi si mette alla guida sul driver e si mette a parlare con i clienti una cosa per l'appunto super interessante di questo fumetto anche è che di pagina in pagina non c'è uno stile fisso non c'è un utilizzo sempre uguale della closure delle vignette per fare un esempio simile i tre joker pubblicazione recente di panini di sì i tre joker è un fumetto che a livello di sceneggiatura è meraviglioso i disegni sono stupendi però a livello di strutturazione della pagina è classico 3x3 fine super easy super super quadrato è della serie la minestra che so che funziona non voglio impegnarmi sotto questo punto di vista vado avanti così radian black sotto questo punto di vista invece è diverso perché per l'appunto la pagina funziona con uno scopo preciso da parte dell'idea di costa mi permetto di mettermi in grande questa mi ha folgorato per un motivo cioè tu hai red che da un pugno pugno che ti porta a guardare e ora specchio un macello che ti porta a guardare verso direzione del braccio poi scendi qua poi torni indietro da questa parte guardi red poi vai di nuovo dall'altra parte perché la mano arriva da destra e non te lo aspetti perché normalmente ti aspetteresti una mano che arriva da sinistra invece va a destra perché deve darti il senso di deve respingerti in senso di impatto che nella lettura da sinistra a destra la mano da quella parte ti dà e poi di nuovo va giù cioè con degli elementi che escono fuori dalle vignette che sono però tagliate e sono tutte quante senza i bordi diciamo verticali ora senza andare in termini troppo tecnici cioè sapere aperte chiuse però ma questa cosa non è sempre così cambi scontro questa per dire già completamente diversa qua c'è un sacco di vignette chiuse e poi però poi c'è quella ginocchiata che è completamente off panel che diciamo il fulcro dell'azione mentre tutte le altre vignette della tavola ci girano quasi attorno e tu giri le pagine e vedi questo utilizzo del paneling sempre diverso che è super stimolante anche nella lettura c'è ti porta anche a a quasi a volte o a soffermarti di più se come me o frate ti piace perdere tempo a guardare perché l'ho arrivato con la vita oppure ti fa correre un sacco c'è io prima lettura ho corso un botto leggendolo perché ti incalzano anche per questo fatto di cambiare continuamente ti incalza a leggere sempre di più andare sempre più avanti poi però magari intanto mi fermavo tipo a fine capitola mi fermavo tornavo indietro mi guardavano la strutturazione delle tavole perché poi è sempre bellino per quanto non c'è uno di ritorno delle vignette che delle volte porta anche a rallentare il ritmo poi ovvio nella voglia nella poca di voler leggere uno magari solo può mangiare ma ad esempio questa vignette questa sequenza di vignette queste cinque interiori ai portano tanto a rallentare il ritmo di lettura perché ti devi per l'appunto immedesimare in quello che sta pensando in quel momento nata ed è anche lì una bomba perché un fumetto del genere come diceva angelo è fatto proprio perché deve essere mangiato velocemente però c'è la consapevolezza degli autori di rallentare il ritmo della lettura quando necessario proprio perché comunque nata nel suo amico non sono dei personaggi super che devono correre da una parte all'altra sono personaggi che come dire non hanno paura proposta e riggins non hanno paura del silenzio sono personaggi reali esatto e vedere la scena della della gomma forata invece è super semplice super super classica anche se c'è tipo una tavola carina che fa 4321 con le vignette allargandola sempre di più no però dire lì fa un'altra cosa ancora perciò in base alle situazioni c'è proprio un utilizzo consapevole del del paneling anche a volte delle linee cinetiche che sono una cosa che l'occidente ha sempre un po delle scuole di pensiero c'è chi è totalmente contro chi ne usa un botto anche lì sono utilizzate in maniera molto consapevole lì qui volevo dire ma infatti mai fatti una grande differenza momento parlavate minuti mente una grande differenza tra radio black e decorum si parlava di estetica di design no questo ma qui mike alderson fa un lavoro assurdo cioè qui apro a caso passiamo da tavole così a tavole così visto proprio sfogliando completamente a caso è come vedete ogni pagina cambia lo stile narrativo il tipo di disegno di colorazione il problema è che si vede proprio lì mano delle infografiche il problema il problema di decorum è che viene fatto quasi in maniera accademica del tipo ti faccio vedere che cosa so fare ok mike alderson dice io so fare 50 stili che li faccio vedere tutti e 50 uno stile non gli fa la gente fa vedere quanto sono bravo ma una delle grandi critiche si può muovere corum è che questo cambio di stili non è funzionale alla narrazione se non è che il pianeta a te lo disegna sempre in un modo il pianeta b in un altro ed è così in base al tipo di disegno sai in quale pianeta si trovino come talvolta viene fatto per il flashback per il flash forward per i ricordi a volte a me l'esempio principe di questo discorso degli stili che mi viene in mente però si parla proprio di autori diversi è il moon night di lemair dove ad ogni personalità c'è un artista e un colorista diverso e ai quali lo stili totalmente diversi e tu fai poi cosa sto leggendo infatti quella randela a mondia che c'è anche james tokoe dentro tra l'altro quindi che fai il futuro è bellissima e l'impresa decorum di muta a cacchio così in decorum l'unica cosa narrativamente corrente a livello di colorazione e quando arrivano le entità robotiche in quel caso la palette cromatica cambia e lì c'ha un senso poi però nelle altri casi come detto tutte a del stone che ma anche hickman c'è quei due volumi sono letteralmente due autori che dicono beh siamo bravi se sbattiamo sul tavolo il fatto che siamo bravi se dai facciamolo investire nel black come dicevate il cambio di architettura della tavola di vignetta di anche appunto penso al sesto capitolo no di stile di autore è tutto coerente a se stesso con quello che deve narrare e forse è meglio così ecco se è ancora più potente così tra l'altro minuti mente super similitudine tra decorum era nel black e che anche le corum a delle pagine world of est delle pagine interamente scritte che sono i sogni che fa il vecchio ma ricorda della tavola del capitolo 6 mi ha devastato c'è lei che a terra con il chiede trasformato e fa saltare in aria il bordo della pagina che face si fa fa rompe la vignetta per poco per come a terra è una figata incredibile però appunto diciamo nei cinque capitoli iniziali ora mi è capitato l'omaggio alla hulkbuster stavo spogliando a caso cambia e subito prima di quella tavola dove l'era per la vignetta c'è la classica trasformazione alla giapponese quindi più bella l'armatura lì si cuccia attorno e lì e vedi l'ottica dell'universo secondo me c'è l'idea che certe cose anche cambiando autore devono rimanere fatte in un certo modo perché hanno un senso narrativo eccetera eccetera e quindi questo è poi lì vedi l'idea poi diciamo poi delle tavole no questo non la posso far vedere no no anche volevo prendere quella quella metà metà cosmi no quello non ci avevo pensato anche io quella è una meravigliosa lì da capo costa a proposito di sbattere sul tavolo lì e costa che ti dice beh sono bravo anche io se facciamolo e ti fa quella tavola stupenda però no è veramente spoiler in realtà io per esempio ci mi ha reso dell'azione completamente diversa dove hai un personaggio il personaggio super in primo piano e la resa del movimento di chi viene purtroppo sbalzato via cioè tutta sullo sfondo quindi completamente diverso da quello che ho mostrato prima comunque una tutta chiarissima perché per l'appunto questo è anche il vantaggio di avere i colori nel momento in cui fai il movimento da una parte all'altra con l'energia libera di radia black di colore azzurro sostanzialmente su sfondo cittadino hai fatto il gioco tu segui e sostanzialmente vedi radia rente che viene sballottato da una parte all'altra fino a essere lanciato completamente via questo poi fa anche trovare il tratto per sé che per esempio per livello di tratto invece è molto semplice e tranquillo non fa grandissime modulazioni non vedi linee che passano ad essere sottili a spesse come un dito cioè lì si mantiene molto sul classico però evita grandi impennate perché compensa con altro che sia impostazione classica e tratto sempre uguale dopo un po ti rompi le balle se invece compensi con altro no poi sai dove metti e dove togli insomma per esempio in sesto capitolo già il tratto è un po diverso c'è il vedi che ogni tanto cambia in un po più lo spessore dei bordi così siamo parlati da francesco sta facendo una cosa poi io l'interrotto perché sono una persona non era come sempre guardavo questa tavola qui che citavi te prima dove lui sul macro board eccetera la tavola prima c'è lui che si trasforma quindi viene lanciato con un pugno lontano dov'è di quale tavola se le camaro specchi semplifici lui prende in mano il radiant lo stringe e diventa appunto a radiant black natava dopo lavorando quanto assomiglia come 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 modalità di diffusione di trasformazione a shaman king dove lui prende il demo in mano che diventa lo shaman diventa piccolino lo prende in mano fa una possessione buone è bellissimo l'idea e l'acqua per esempio neanche a farla apposta ha eliminato takei che è proprio uno che che prende l'america che prete da che che è mamma quanto è vero e bel personaggio è che prende dall'america takei ed è anche uno che guarda caso è uno di quelli che non fa gigantesche modulazioni di tratto a quel tratto sempre lì sempre sottile però poi compensa con altro con la comprensione pesa dell'azione design e così simili quindi quindi era giusto parlo non c'è comunque un bel confronto io comunque direi noi stiamo rischiando molto di andare in fase spoiler perché fondamentalmente abbiamo fatto vedere un sacco abbiamo parlato di che questo volume ce lo siamo praticamente divorato e spero ovviamente che chi chi ci ha seguito stasera non si senta in in grado di non comprarlo perché gliel'abbiamo parlato noi no del contrario cioè è veramente che manca non bene manca tutto si assolutamente e io francamente ho soltanto da dire ultima cosa in chiusura prima di lasciarvi la parola che spero tanto nel futuro di questa serie c'è fondamentalmente per l'appunto i capitoli sono già stati letti prima sta francesco stai nominando proprio il come prende il potere ecco proprio il radiant è palesemente uno dei misteri sul quale in se costa stanno cercando di giocare in maniera saggia tirando anche un po la corda perché ovviamente allo stato attuale in america siamo arrivati al mi pare diciannovesimo capitolo non si sa tantissimo quindi è un tirare la corda però c'è comunque danno sempre quel tanto di informazioni in più che effettivamente ti fa andare avanti e ti interessa quindi spero vivamente che il futuro di quest'opera sia per fare un gioco di parole radioso cioè sono un parolista anche perché quando quando credete che un prodotto stia tirando troppo la corda paragonatelo sempre con gli uomini in nero i dettagli conan quello è un tira troppo la corda quindi che ti dà un indizio ogni 150 capitoli ecco quindi radian black is molto acqua di rose detective conan se pensiamo che c'è addirittura la versione del fumetto fatta senza i casi filler all'interno vabbè ok c'è proprio un concetto diverso c'è la gente a volte compra in giappone comprami volumi non numerati se li vedono succede rega rega the text conan è arrivato al suo ventiseiesimo film il 26 e sono film 26 cioè vabbè se ha una certa c'è nella popolazione del giappone è stata sterminata nel mentre è realistico quando solo per questo sostanzialmente detto questo francesco prima o loro ridicato che fondamentalmente sei tu l'ospite se c'è qualche cosa che vuoi ripetere sulle pubblicazioni future vai questo è il momento prima di andare in chiusura alla fine quello che abbiamo detto negli ultimi giorni in casa salda abbiamo fatto gli annunci a lucca per il 2023 quindi ci sono tantissimi titoli che vi aspettano quindi titoli belli che stanno uscendo in questi giorni titoli belli che usciranno nelle prossime settimane titoli bellissimi che usciranno nel 2023 per fare un po di nomi ed brubaker cx darky daniel warren johnson e su daniel abbiamo un sacco di sorprese e poi appunto tra due giorni cos'è venerdì venerdì mattina usciranno uscire al post con gli annunci di dicembre quindi anche lì invincible buffy gorzilla the walking dead ne abbiamo veramente tantissimi quindi chiaramente seguiteci io sono in live tutte le settimane come come anche angelo e francesco quindi da un po il nostro lavoro e ci divertiamo sempre se non ci divertiremo se non ci troppo che portiamo avanti e per quanto riguarda a salda per scuote di trovarci chiaramente tutti i giorni sui social siamo sempre disponibili a farlo e chiacchiere nei messaggi nelle mese 3 se tra ma ci trovate in fiera a milano ea roma sono le prossime fiere hanno approfittato questo piccolo momento pubblicità se ci volete incontrare si dimmi pure a dicembre aderite giusto alla dicembre aderiamo al e quindi che non è più un solo dei ma è un intero mondo nel senso tutto il mese di dicembre nelle fumetterie troverete cinque case editrici che sono salda press panini bau star comics e bonelli che porteranno non so quanti in totale non ho idea non sono tantissimi però ricordo per l'appunto poi porterete un manga e quello di zarsky il fumetto di zassi dicembre sarò lì che andrò in metteria a prendermi quel numero perché devo devo leggere questo come tono arra di zarsky che che mannaggia c'è la collina la peccata poi angelo ce lo siamo più attenti ancora di lucca poi ci splittiamo le spese lo sai c'è quindi tu non è subito in quarta che dobbiamo metterci d'accordo si pariente portiamo stex che è il manga che seguirà poi sempre di azushi tamizzo che se possibile disegnato ancor meglio di togli ho letto l'ho letto oggi come dei di che arriva sono leate le stampe quindi ho potuto toccarlo con mano e poi porteremo appunto ogni borne di zips darsky e giacob phillips e già con phillips è il figlio di sean phillips quella che collabora con brubaker su tantissime opere e appunto è un noir investigativo con questo investigatore che collabora con l'ambiente criminale la malavita e chiaramente collaborando con l'uno o con l'altro si inimica l'uno e l'altro e quindi un gran casino molto bello perché ha una narrazione proprio la serie al televisivo un po alla dottor house per intenderci questo personaggio un po contraddittorio con una zona morale molto grigio come diciamo in apertura di poi zarsky è bravo con queste cose a passare dalle emotività pura di spiderman nelle storie della mia vita al noir spinto e moralmente ambiguo c'è lo adoro come scrittore per questo banalmente anche stil water eccolo qua di di salda per fatto con eramo anche i scritti da staschi è una bomba pazzesca secondo me è super sottovalutato io credo che debba essere letto lentissimo perché passa con un chance da un piano temporale a un altro da un'emotività un'altra è davvero davvero staschi è veramente veramente bravo e l'abbiamo visto anche nel secondo volumenico scoperto ne ho stati scrive un capitolo iniziano al lucro era annunciato anche un'altra cosa di zarsky o come questo ricordo forse mi sto confondendo con brubaker che erano tipo 34 nuove che sono 44 annunci si sta in realtà non c'è da nessun'altra parte e avevo un ricordo dopo 262 e tre settimane c'è tipo quel ricordo un po con questa distanza di giorni sì vabbè madre del lucca penso che abbiamo tutti un ricordo stile almeno io e te sicuramente stile ubriacatura a quelli vecchi ma ero lì che preparavo lo scritto del concorso nel mentre con un orecchio sentivo le live non farmi ricordare quelle giornate per favore che per tempo è bellissimo da leggere e secondo me chiunque riesca a scriverlo correttamente a primo colpo vince un premio perché un coglione veramente a pronunciarlo e tuttora non ho capito se la villa devi pronunciare o meno però no io non la dico io faccio tipo zarsky però c'è riesce diversamente domani mattina per fortuna ormai il mio telefono è impostato quindi basta che scrivo il nome del personaggio e lui mi dà subito la coppia artistica io scrivo chip lui fa zarsky e jacob phillips direttamente è bellissimo gente che al momento scrivo le parole italiano e mi dai consigli in inglese e tuttora non riesco a tornare a pelle è bello questa roba fa anche paura io scrivo penelope e mesulare sotto virgola il nuovo graphic novel di darmi sabula aiuto sembra che l'ho scritto da me tante volte no che si ricorda fa paurissimo comunque comunque si tornando noi salutandosi salda questa trovata in fiera e a milano quindi a milan games week slash slash cartum x 9 che è diventata milan games week dal 25 al 27 novembre e poi due settimane dopo a roma al alla fiera più libri più liberi al testaccio di roma dal 7 all 11 dicembre così a milano camminano che a roma venga roma gli altri venite dove volete che siamo sempre pronte a raccogliervi con una birra menabrea va verrà saperte dai 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 invece noi come proprietaria di casa vi avvisiamo che giovedì faremo una live su blitz sesto episodio di blitz sapete che cosa avviene non vi scrive non vi diciamo nulla perché ci ha dato quello che aspettavamo da quello che aspettavamo e più di quello che aspettavamo domani vi faremo uscire su instagram un articolo su assassination classroom questi sono gli appuntamenti più più vicini grazie per averci seguiti grazie a francesco per essere venuti qui e nuovamente cioè se volete c'è questa live non avete seguito questa live siete arrivati ora abbiamo fatto un articolo su radian black abbiamo un post su instagram su tutto il massive verse così vi fate anche un'idea a grandi linee della mole di spin off di cui potrete fruire nel corso del 2023 e che dobbiamo dire buonasera a tutti esatto buon ciao buon lavoro già molto